buona giornata amici bentrovati alla rassegna stampa di fano tv oggi è sabato 24 agosto 2024 ebbene questo weekend dovrebbe essere un po il weekend della ripartenza di molti turisti che ormai hanno terminato la loro settimana di vacanza quella fatta nella parte centrale del mese di agosto se non ritorneranno a casa le strade in modo particolare la 14 saranno molto molto affollate tra oggi e domani insomma forse oggi ancora rimarranno qualche ora in spiaggia per poi prepararsi a tornare per tornare alle loro località di provenienza nella giornata di domani quindi traffico con bollino rosso sulle principali arterie del nostro territorio vediamo subito e partiamo con l'almanacco del giorno e vediamo chi si festeggia oggi eccolo il santo di oggi è san bartolomeo uno dei dodici uno degli apostoli di gesù san bartolomeo apostolo dopo la morte di gesù predicò in libia arabia armenia e andò anche nelle indie settentrionali e purtroppo morì martire con il supplizio terribile supplizio quello della scorticazione gli fu tolta la pelle mentre era ancora vivo e questo supplizio fu decretato dal re astiage uno del re idolatri che insomma non accettava la predicazione di san bartolomeo e se voi magari andate a roma e andate alla cappella sistina per vedere il giudizio universale di michelangelo vedrete una figura bellissima di san bartolomeo che regge nelle mani la sua pelle e nelle pieghe della sua pelle vedrete anche il ritratto l'autoritratto di michelangelo buonarrotti ebbene dopo questa curiosità passiamo alle previsioni del tempo un weekend propizio per trascorrere ancora qualche ora al mare cielo sereno al mattino con qualche nube in più nel pomeriggio ma senza fenomeni particolari le temperature massime toccheranno i 36 gradi sono veramente molto molto alte le minime i 24 sulle coste i 20 ispireranno da est sud est nell'entroterra invece da sud ovest il mare leggermente mosso il sole è sorto alle 6 20 e tramonterà abbiamo varcato ormai la soglia delle ore 20 e tramonterà alle 19 e 59 mano a mano i giorni si stanno accorciando allora apriamo il giornale sul corriere adriatico alla pagina di fano e vediamo un argomento che ieri il sindaco di fano luca serfilippi ha toccato nella conferenza stampa del venerdì ormai un incontro abituale con i giornalisti che si ripete settimana dopo settimana e sono stati due gli argomenti che il sindaco ha trattato prima di tutto una risposta al comitato che ha lanciato un appello per il proseguimento degli scavi archeologici di piazza andrea costa vediamo qual è la risposta dell'amministrazione comunale ebbene vediamo che il comune non è stato insensibile all'appello lanciato dal comitato accogliendo almeno in parte l'appello di condurre le verifiche che sono in atto più a fondo mercoledì scorso c'è stato un incontro con la sopraintendenza hanno incontrato il sindaco la responsabile dei beni culturali e archeologici per le province di Ancona e Pesaro Ilaria Vienanzioni insieme al funzionario Stefano Finocchi che cosa è stato concordato è stato concordato che si effettuerà un sondaggio più a fondo quello che si fa normalmente su tutta la piazza è di poca profondità solo 40 centimetri invece in un punto preciso un punto ben individuato si andrà a fondo per verificare se c'è ancora qualche traccia dell'antico cardo uno degli obiettivi importanti che i sostenitori appunto di un approfondimento degli studi su piazza Andrea Costa sostengono quindi si cercherà di trovare le tracce di questa importante strada che in un punto cruciale importante della città appunto toccava il decumano massimo cambiamo argomento cambiamo argomento e passiamo al secondo argomento trattato dal sindaco e dall'assessore ai lavori pubblici di Gianluca Ilari quello del bastione Sangallo il bastione Sangallo c'era stato un progetto che era stato elaborato dalla vecchia amministrazione comunale che però non era stato finanziato dalla regione Marche per problemi burocratici questa volta la nuova amministrazione presenta il progetto esecutivo per un importo che toccherà i 900 mila euro vediamo un attimo cosa dice il giornale si tratta di un incarico di 150 mila euro per il progetto sono stati riconosciuti dalla regione 440 mila euro per un totale di 900 mila quindi una parte sarà finanziata dalla regione e una parte invece dall'amministrazione comunale 440 mila dalla regione 460 mila dunque diamo un atto si dico bene si aspira a vendersene riconosciuti dalla regione 440 mila comparticipando il comune sia appunto dicevo bene 460 mila ebbene sono stati incassati i pareri dovuti in modo particolare quello della sempreintendenza perché una delle novità dell'intervento su Bastione e Sangallo è la realizzazione di una grande torre come quelle che nel medioevo si avvicinavano alle mura delle città sediate per cercare appunto di valicarle ebbene ci saranno anche dei passaggi aerei e delle possibilità per far accedere a questo monumento importante della città anche i disabili quindi verranno eliminate le barriere architettoniche una importante azione di repressione di comportamenti non in sintonia con le regole vigenti è stata fatta dalla Capitaneria di Porto sequestrate in Porto due tonnellate di vongole cinque barche avevano prelevato il doppio del consentito la Guardia Costiera infligge multe per un totale di 20.000 euro e sono anche penalizzati i comandanti delle imbarcazioni con la sottrazione di alcuni punti come si fa con la patente quando un utente della strada contraviene alle regole in corso restituite al mare circa due tonnellate di vongole erano ancora vive sono state rigettate in mare pescate in eccesso rispetto al limite quotidiano opposto dalla normativa sappiamo che appunto la pesca delle vongole viene regolamentata in modo da non far esaurire i banchi con dei prelievi eccessivi ebbene bisogna seminare per poi raccogliere ma bisogna raccogliere anche il dovuto e questo è l'esito di un controllo fatto dalla Guardia Costiera e parliamo della Fiera di San Bartolomeo eccola la Fiera di San Bartolomeo purtroppo a Fano continua il calo degli espositori sono occupati due chilometri di viale adriatico e parte anche di lungomare Simonetti spazio all'artigianato locale questa è una delle novità che sono state introdotte nella edizione di quest'anno e poi alla vendita libera dei ragazzi bene la Fiera Franca dei ragazzi riservata alla fascia dai 3 ai 14 anni all'insegna del baratto di giochi, libri, fumetti oggetti realizzati in proprio dai bambini sono 30 postazioni che sono stati realizzati in Sassonia e questa è un'iniziativa che ieri ha evidenziato la vice sindaca Loretta Manocchi che ha riservato uno spazio esclusivo all'interno del calendario delle manifestazioni per valorizzare appunto questa iniziativa da parte dei ragazzi la Fiera di San Bartolomeo comunque è sempre un momento importante di attrazione sia per il commercio che per il turismo fanese ma vediamo che mentre la Fiera di San Bartolomeo a Fano è in calo ebbene la concomitante iniziativa di Senigallia invece sta avendo un grande successo la campionaria Senigallia a caccia di record sono attesi oltre 30.000 visitatori alle 17 il taglio del nastro da parte, un commento poi da parte di Mugianesi esponente della CNA un palcoscenico per le eccellenze del artigianato dicevo che sono attese non meno di 30.000 persone per questa 32esima edizione della Fiera Campionaria di Senigallia quasi 5.000 a giornata un'edizione che gli organizzatori della CNA Ancona hanno definito multicolore e multidisciplinare abbiamo scelto di coinvolgere tutte le attività del territorio hanno detto i rappresentanti di categoria e non solo quelle stellate ebbene a intervenire è Giacomo Mugianesi che annuncia il taglio del nastro alle 17 di oggi pomeriggio e poi vediamo che a Senigallia si ruba un po' di tutto ma si rubano anche le barche si ruba un po' di tutto come in tutte le località però insomma il furto delle barche è un furto un po' più raro Blizzi in spiaggia portata via una barca associazione velica nel mirino dei ladri è sparito un tridente di 6 metri il presidente Genghini strano dice valeva poco e sopra ha anche il nostro logo quindi dovrebbe essere facilmente rintracciabile dai ladri di biciclette dunque ai ladri di barche e beh il passaggio è un attimo insomma ci si può trasformare in mille occasioni di attività è successo nella notte tra mercoledì e giovedì ai danni dell'associazione velica Senigallia una scuola rinomata di vela e di windsurf con sede sulla spiaggia di Levante sul lungomare Leonardo da Vinci ora si cerca un po' di rintracciare questo natante ma probabilmente i ladri hanno anche organizzato oltre il furto anche il modo di occultarlo per poi insomma o rivenderlo oppure tenerlo come loro imbarcazione ma torniamo un attimo indietro per dare un'occhiata anche alla pagina della Val Metauro siamo a terre roveresche e vediamo ancora un articolo che pone un po' nei guai il sindaco Antonio Sebastianelli a cui viene ora imputata una decisione che viene contestata dall'opposizione quella della vendita di alcuni mezzi e di proprietà dell'amministrazione comunale a un prezzo simbolico, qualche centesimo il sindaco si giustifica dicendo che questi mezzi erano obsoleti ma due su tre sono stati rivenduti dall'equirente con l'ausilio di un avvocato e proprio la minoranza condividiamo, questa è la sigla del gruppo che ha preso questa iniziativa sta valutando la presentazione di un esposto alla Procura della Repubblica sulla vendita di tre mezzi comunali obsoleti abbiamo visto quali erano questi mezzi anche nella giornata di ieri comunque lo ripetiamo si tratta di un camion con un cestello Nissan venduto il 23 dicembre del 2020 alla Coime, una ditta di San Lorenzo in campo e poi ci sono anche altri mezzi che hanno subito la stessa sorte insomma potete anche leggere i particolari su questo articolo pubblicato dal Corriere Adriatico vediamo anche l'apertura sulla pagina di Pesaro dove alla fine di agosto si cerca di allungare quella che è la stagione turistica in spiaggia anche a settembre ogni anno si cerca di allungare sempre di più la stagione perché come ho sempre detto settembre quando c'è bel sole è un mese ideale per trascorrere le vacanze e se c'è ancora un po' di lasso di tempo prima che inizino le scuole le famiglie possono benissimo approfittare di questo mese che è un mese veramente bello comunque l'input è quello di allungare la stagione ma garantendo i servizi per cui il sindaco Biancani dice che è disposto benissimo ad allungare la stagione basta che i concessionari di spiaggia e gli operatori turistici possano continuare a offrire i servizi ai loro clienti la proposta del sindaco Biancani ai gestori degli stabilimenti balneari chiedo di non smaltellare completamente ha detto il primo cittadino tutti i servizi resta però una scelta degli stessi operatori scontotari lo chiedono quasi 1.400 famiglie pensate quante persone si trovano in precarie condizioni economiche a Pesaro sarà di 300.000 euro il tesoretto che potrà essere diviso tra coloro che si trovano in difficoltà lo afferma l'assessore al welfare ovvero ai servizi sociali Luca Pandolfi 1.400 famiglie quasi tutte pesaresi presentano la domanda soddisfatti numeri che ci attendavamo dice appunto Luca Pandolfi e gli utenti fanno la fila marche multiservizi per mettersi in regola con gli arretrati in modo da poter usufruire appunto di questi sconti perché chi non è in regola con i pagamenti regressi ovviamente non può ricevere il sostegno dell'amministrazione comunale tiriamo ancora la pagina e vediamo come Pesaro si appresta ad ospitare la festa del Partito Democratico Belo Maria in segreteria e la festa dal Via Libera a Ricci ci sarà un incontro particolare anche con Ricci con Renzo Ricci e Matteo Ricci incontrerà Renzo Ricci sarà uno degli incontri più attesi nella festa dei Dem Pesaresi che si terrà nell'area del campo di Marte storicamente destinata ai Romani dai Romani all'addestramento della Pax Paudì che si sancisce alla vigilia della festa regionale appunto dei Dem Pesaresi allora chiudiamo il Corriere Adriatico e passiamo al resto del Carlino che in apertura oltre al sequestro delle due tonnellate di vongole di cui abbiamo già detto pone un altro articolo che evidenzia come siano sparite le cozze ebbene anche questi mitili che sono importanti dal punto di vista economico che sono uno degli ingredienti più importanti della nostra economia sembrano che siano spariti si sono deliguati che cosa è accaduto l'esperto spiega perché e chi è l'esperto ebbene è Corrado Piccinetti il biologo marino insomma di rinomanza nazionale di sicuro dice non c'entrano le mucillaggini c'è una maria di cozze su tutte le scogliere comprese tra Ponte Metauro e il porto di Fano lo segnala Mauro Del Vecchio un pensionato 76enne di Calcinelli che tutte le mattine viene a Fano per fare una nuotata nuoto a ridosso delle scogliere ha dichiarato e vedo sempre queste belle cozze attaccate agli scogli sia in superficie che sotto il pelo dell'acqua oggi non ce n'erano più giusto qualcuna aperta al sole le altre erano tutte sparite che cosa è accaduto l'esperto Piccinetti esclude l'ipotesi di inquinamento ma non avvalla neppure quella delle alte temperature del mare per la Capitineria di Porto che non ha ricevuto però nessuna segnalazione ufficiale potrebbe trattarsi di pesca di frodo e questa è una delle poi ipotesi che vengono sondate e ricorda che la raccolta non è un'attività consentita non possono essere sparite tutte sottolinea Piccinetti e ci vuole una amareggiata fortissima per spostarle cosa che in queste ore non è avvenuta quindi non sembra che sia veramente una casuale una casuale fisica una casuale determinata dalle condizioni ambientali e forse lì c'è la mano umana che ha depredato un po' questi scogli e allora passiamo ne vedremo poi agli sviluppi in seguito e poi passiamo ai debiti dell'Alma Juventus Fano dopo quelli dell'acqua dopo quelli del gas dopo quelli del pagamento degli stipendi dei giocatori ora sembra che ci siano debiti anche per quanto riguarda l'Inps e la cifra è piuttosto sostanziosa 379 mila euro a tanto ammontano i crediti richiesti dall'Istituto di Previdenza Guida cosa dice cartelle sono sospese il Durk regolare e ci sarà un'udienza a dicembre fissata infatti per il 13 dicembre l'udienza a Pesaro sul ricorso che l'Alma Juventus ha compiuto sulla richiesta di 379 mila euro effettuata dall'Inps cartelle che al momento risultano formalmente sospese e sulle quali poi il giudice dovrà pronunciarsi in merito quindi veramente non è facile la situazione dell'Alma Juventus Fano Piazza Costa si faranno altri scavi ma a settembre pavimentiamo hanno detto il sindaco Luca Servilippi e l'assessore ai lavori pubblici Gianluca Ilari poi vediamo qui un bel rendering del nuovo progetto che verrà realizzato al Bastione San Gallo da questa parte vedete la torre che verrà innalzata sul lato delle mura con una passerella che permetterà al pubblico ma anche ai disabili di entrare in un percorso aereo appunto sul Bastione San Gallo per poi arrivare sia alla Corte Bassa che alla Corte Alta un progetto che è stato ripreso dall'attuale amministrazione comunale dopo che la precedente insomma non era riuscito a finanziarlo per problemi burocratici debutta il mercatino dei sapori e colori Slov con 20 produttori la comunità Slow Food per la valorizzazione della ceramica di Frate Rosa ha organizzato per domani la prima edizione del mercatino dei sapori e colori Slow una manifestazione per far conoscere le piccole realtà artigiane del territorio e quindi anche nell'entroterra passiamo alla pagina di Urbino un progetto per portare più sport nelle scuole è quello che ha ideato il nuovo assessore allo sport assessore Gianfranco Fede Grucci avviciniamo i giovani all'attività motoria e sulla protezione civile vorrei aumentare gli iscritti è un'intervista appunto che l'assessore concede a Giovanni Volponi il giornalista del resto del Carlino insomma che evidenzia un po' tutti i disegni le prospettive i progetti che si intendono portare avanti vediamo anche un punto pericoloso della viabilità che viene evidenziato dal resto del Carlino è quello dello stop all'incrocio di due vie a Ferminiano ci sono due vie che si incrociano nella rotatoria all'intersezione tra via Falasconi e la circonvallazione via Metauro a due passi da quella di Vivio Borzaga al confine con il comune di Urbino insomma sono delle punti cruciali della viabilità nei pressi di Ferminiano e anche della viabilità che poi conduce a Urbino e ricordiamo che nei giorni scorsi c'era la nuova arteria che era stata ridotta a senso unico devieremo il traffico sulla circonvallazione e sposteremo fermate dei bus senso unico in via Buonarrotti ha dichiarato appunto l'assessore alla viabilità dallo Zambia all'abbraccio con Tajani la favola di Blessing curata a Urbino il ministro incontra al meeting di Rimini la bimba che ha aiutato a venire in Italia e vediamo appunto il ministro Tajani con la bimba in braccio il sindaco Rossi pratiche d'adozione sono in corso e questo si riferisce a Montegrimano Terme insomma una località ospitale un tuffo nel passato con il paglio dei Brancaleoni a Piobbico l'evento più atteso uno dei pali più belli che si svolgono nel nostro territorio dove queste rievocazioni sono molto numerose iniziative fino a domenica prossima domani sarà il clou della festa la contesa della Pannocchia è veramente sono veramente così fantasiose tutte queste iniziative che si svolgono per rievocare le bellezze i fasti del medioevo ed ora passiamo al corriere adriatico l'apertura è dedicata agli scavi di piazza Andrea Costa vediamo il titolo se riesco a vederlo sullo schermo operiamo con la soprintendenza eccolo qua ecco così operiamo con la soprintendenza ma il cantiere non si può fermare la linea del sindaco su piazza Andrea Costa l'abbiamo già evidenziata con scavi in profondità i fondi del PNR potrebbero perdersi perché poi se prolunghiamo l'attività archeologica può darsi che non possiamo rispettare la scadenza del 2026 quando dobbiamo rendicontare tutto e se non lo facciamo perdiamo i fondi dobbiamo pagare di tasca nostra ha detto il sindaco e siamo in conclusione voglio evidenziarvi un ultimo articolo è stata presentata ieri la nuova edizione la 51esima dell'incontro internazionale polifonico città di Fano un incontro che sarà caratterizzato dal tema delle donne si inizia il 30 agosto e si termina l'8 settembre il primo appuntamento è a Pesaro nella chiesa di San Giovanni e poi si verrà a Fano in tante location ma di questo parleremo anche in seguito e qui terminiamo la nostra rassegna stampa io vi ringrazio per l'ascolto vi auguro un buon weekend e vi do appuntamento a lunedì alle 7 a risentirci e vi do appuntamento